Sonetto 136 Allora questa non è una poesia d'amore perché il canzoniere non contiene soltanto poesie d'amore ma contiene anche poesie di carattere etico-politico è proprio il caso di questo sonetto che è un sonetto satirico e l'argomento di cui si parla è la corruzione della corte papale di Avignone di questo argomento il poeta ne aveva parlato anche nell'epistole latine Sinenomine e qui nella trattazione il Petrarca abbandona lo stile dolce della poesia amorosa e abbandona anche quello solenne delle canzoni politiche si rifà invece allo stile comico quindi alla sua violenza alla sprezza fonico-verbale, allo stile metaforico-allegorico a sua volta di ascendenza biblica e il linguaggio di questo stile comico è un linguaggio che ha delle forti punte realistiche per esempio quando si leggono parole nella prima terzina ma anche nella seconda come rezzo, scalza, stecchi, lezzo che sono parole lontane dalla ricercata e limpida melodia petroarchesca Sonetto 159 In qual parte del ciel, in quale idea, ora l'esempio, onda e natura tolse quel bel viso leggiadro in che la volse mostrare quaggiù quanto la sua potea? Qual ninfa in fonti, in selve mai qualdea, che omedosi fino a Laura Sciolse? Quando un cor tante in sé vertute accolse benché la somma è di mia morte rea per divina bellezza in darno mira chi gli occhi dei costei giamai non vide come suavemente ella gli gira non sa come amor sana et come ancide chi non sa come dolce ella sospira et come dolce parla et dolce ride questo è un altro sonetto nel quale si esalta questa bellezza suprema di Laura e in questo sonetto il petrarca non dipinge gli accidenti naturali dell'amore ma le immaginazioni ideali e infatti qui non abbiamo un'immagine definita della donna ma in realtà non l'abbiamo mai nel canzoniere questa immagine definita abbiamo invece una visione esaltante e nello stesso tempo sfumata e questa visione esaltante ma sfumata esprime nello sfolgorare della sua luce la contemplazione rapita del poeta e troviamo qui alcuni modi del dolce stil novo che vengono richiamati dal petrarca ma che sono comunque ravvivati attraverso un'eleganza tutta classica e latina e quindi sono versi molto soavi molto teneri e affettuosi insomma molto di più di quello che avremmo potuto trovare negli stil novisti Sonetto 160 Amore et io si pien di meraviglia come chi mai cosa incredibil vide miriam costei quand'ella parla o ride che sol se stessa et nulla altra simiglia dal bel seren delle tranquille ciglia sfavillan sì le mie due stelle fide caltro lume non è chi infiammi et guide chi da mare altamente si consiglia qual miracolo è quel quando tra l'erba quasi un fior siede ove quand'ella preme col suo candido seno un verde cespo qual dolcezza è nella stagione acerba vedere ir sola quei pensier suoi insieme tessendo un cerchio a loro terzo et crespo allora questo sonetto ha un'ispirazione simile a quello visto precedentemente cioè in qual parte del cielo e anche qui troviamo un'estatica gioia contemplativa il tono qui però è un tono un po' più intimo e già all'inizio quel ragionare del poeta con amore quel ammirare Laura insieme a lui dà al sonetto insomma un tono di interiorità di contemplazione commossa la bellezza di Laura è sentita come un miracolo qui lo vediamo al verso 9 quando dice qual miracolo è quel quando tra l'erba eccetera eccetera quindi questa bellezza di Laura che è come un miracolo è contemplata in uno scenario di primavera e anche in uno scenario di solitudine pensosa che attestano la sua vita per così dire colma e perfetta sonetto 189 passa la nave mia colma d'oblio per aspro monte a mezzanotte il verno è fra Sicilia et Cariddi et al governo si è del Signore anzi il nemico mio e a ciascurremo un penser pronto et rio che la tempesta e il fin par cabbia scherno la vela rompe un vento umido eterno di sospir di speranze et di disio pioggia di lagrimar nebbie di sdegni bagna e trallenta le già stanche sarte che son d'error con ignoranze attorno celansi i due miei dolci usati segni morta fra l'onde e la ragione et l'arte tal che incomincio ad esperar del porto allora questo sonetto è una lunga allegoria perché abbiamo l'immagine della nave che si trova sbattuta in un mare tempestoso e che sta a simboleggiare la vita del Petrarca anche essa travolta dalla bufera delle passioni il primo verso è un lamento profondo indimenticabile gli occhi di Laura appaiono verso la fine come due luci che illuminavano la vita di lui un tempo ora però non più e gli occhi di Laura che erano appunto la guida i due fari del suo navigare si nascondono e la scienza cioè la ragione e l'arte del navigare sono infrante dai flutti cioè la marea che sta montando la marea della passione impedisce al poeta di vivere secondo la vintutù tanto che il Petrarca comincia a disperare di arrivare in porto quindi di arrivare a uno stato di salvezza Sonetto 245 Due rose fresche et colte in paradiso l'artir nascendo il di primo di maggio bel dono et un amante antico et saggio tra due minori ugualmente diviso con si dolce parlare et con un riso da far innamorare un uomo selvaggio disfavillante ed amoroso raggio et l'uno e l'altro fecangiare il viso non vede un simil par d'amanti il sole dicea ridendo e sospirando insieme e stringendo ambedue volgea si attorno così partia le rose e le parole on del corlasso ancor s'allegre teme oh felice eloquenzia oh lieto giorno allora questo sonetto è un rapido bozzetto narrativo è praticamente l'unico si potrebbe dire del canzoniere è calendimaggio e troviamo qui una persona attempata che trova laura e francesco insieme quindi li abbraccia dona loro una rosa e dice che il sole mai ha visto due amanti così gentili a questo punto il viso di francesco e di laura si tinge di rossore in parte per il piacere ma in parte anche per il pudore sonetto 272 la vita fugge se non s'arresta una ora e la morte viene indietro a gran giornate e le cose presenti e le passate mi danno guerra e le future ancora e le rimembrare e l'aspettar ma ancora or quinci or quindi sicché in veritate se non ch'io di me stesso pietate i sarei già di questi pensieri fora tornami avanti se alcun dolce mai ebbe il col tristo e poi dall'altra parte veggio il mio nevigar turbati venti veggio fortuna importo e stanco mai il mio nocchier et rotte arbore et sarte e i lumi bei che mirar soglio spenti questo è un sonetto che è stato scritto dopo la morte di Laura questo lo capiamo dall'ultimo verso perché dice che i lumi bei ormai sono spenti quindi si è spenta la vita negli occhi di Laura queste luci si sono spente quindi Laura è morta e la bella persona di Laura rappresenta il sogno di una penezza di vita di una felicità verso le quali il poeta si è sempre proteso con ansia pur avvertendole irreali anche la morte di Laura diviene il simbolo del morire dello svanire senza speranza ormai di ogni cosa umana e così nascono questi versi che sono versi desolati desolati un po' come la verità che contengono una verità che era già stata presentita ma che in questo momento viene veramente vissuta tutta la vita riappare qui però per svanire in un tono di delusione totale perché nel sentimento religioso e di conforto anzi non solo una dita di conforto ma arreca una più profonda angoscia quindi abbiamo questa vita che fugge rapidamente a grandi passi e la morte invece che si avvicina tenendo una marcia notevole insomma e tutte le cose sia presenti che passate che future gettano un senso di scoramento nel potere del poeta un senso come di di fallimento quindi lui insomma ricorda queste cose sia presenti sia passate pensa a ciò che sarà del suo futuro e vorrebbe se non avesse pietà di se stesso addirittura pensare di togliersi la vita quindi ha perso ormai ogni speranza Petrarca dopo dopo la morte appunto della sua della sua donna amata e poi c'è ancora questo questa visione della navigazione della vita che come una nave insomma una vita che è stata turbata dai venti di passioni e diciamo che il poeta ci dice negli ultimi versi che vede una più aspra tempesta nella sua vecchiaia che invece dovrebbe essere un porto sereno della vita invece vede che c'è ancora questa tempesta e la tempesta è proprio quella descritta nei versi precedenti il poeta è vecchio e stanco e parla del suo nocchiero che sarebbe la sua ragione ciò che lo guida quindi anche la ragione ormai vecchia è ormai stanca e l'albero e le sartie ormai sono rotte cioè ogni potenza dell'anima ormai ascemato e sono spente proprio quelle luci gli occhi di Laura che illuminavano le difficoltà di navigazione ma che comunque lui aveva l'abitudine di ammirare l'abitudine